In questo piccolo tutorial ti spiego come impostare così il limite di velocità download, quindi per le persone che stanno alle prime armi sui giochi, su Steam, quindi se tu per esempio stai scaricando un gioco e stai anche giocando a una partita, però stai laggando, puoi impostare il limite di download su Steam. Quindi puoi farlo direttamente andando su Steam, qua sopra in alto a sinistra vai su impostazioni, settings, poi una volta fatto clicca qua sopra, scendi fino a giù fino a trovare il download ed eccolo qua. Semplice, limita la velocità di download, ci clicchi sopra, va in base a kilobyte, quindi se è 100 megabyte al secondo sono 100.000 kilobyte, se invece lo vuoi impostare sui 10 megabyte al secondo metti 10.000. Dipende dalla tua connessione di rete, se stai scaricando a 30 megabyte al secondo lo puoi mettere a 5 megabyte facendo 5.000 kilobyte al secondo, quindi 1 megabyte è 1000 kilobyte al secondo, basta. Una volta fatto ed eccolo qua, velocità massima di download 5 megabyte al secondo, io ovviamente non lo uso perché vado bene, quindi la rete si imposta così sui download, quindi grazie a tutti per questa visione, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.